Come ogni estate sembra un giallo di stagione, le discariche vengono chiuse mandando in tilt il sistema di gestione di raccolta rifiuti dei comuni, scaricando ai sindaci tutte le responsabilità di ogni azione d'emergenza che deve essere fatta per tutelare la salute dei cittadini. In quest'ottica si prega alla città di mantenere l'attenzione alta, di cercare di sfidarsi per differenziare il più possibile, riducendo almeno le quantità di indifferenziato che sono quelle che vanno in discarica. Discariche che oggi sono quasi al collasso, a giorni potrebbero anche chiudere con il rischio di avere i rifiuti per strada non raccolti. La società di gestione dei rifiuti sta anticipando gli orari di raccolta per cercare di arrivare in tempo utile a Lentini, unica discarica aperta, su cui conferisce chi arriva prima in un certo senso. Quindi c'è necessità e urgenza di poter prelevare i rifiuti dalle strade prima degli orari normali. Noi abbiamo una discarica a Gera, che è quella di Contrate d'Impazzo, che ad oggi è chiusa, nonostante l'ambito territoriale ha dato dimostrazione di poter mettere in gambo tutte le azioni per poter abbangare di più, per ridurre la quantità di percolato, per avviare il progetto di raddoppio delle vasche di discarica. Ma evidentemente chi deve firmare queste autorizzazioni non ha il tempo per farlo, creando un grave problema al territorio. Ad oggi il territorio sta ancora resistendo rispetto a quello che abbiamo visto in altri comuni. Evidentemente buona parte della città sta reagendo positivamente. È chiaro che tutti dobbiamo fare il nostro dovere e soprattutto lo chiedo anche a chi ha attività commerciali rilevanti, dove stiamo rilevando delle situazioni di criticità, soprattutto nei giorni domenicali, in cui vediamo conferire rifiuti che non dovrebbero stare fuori dall'attività commerciale.